Questa notte si è proceduto ai fermi proprio perché abbiamo avuto l'urgenza e c'era anche il pericolo di fuga di questi sette arrestati perché avevano in mente, stavano organizzando concretamente di lanciare una bomba contro una caserma dei carabinieri. Questo è per noi inconcepibile, impensabile. È lo stesso messaggio che ho lanciato l'altro giorno quando abbiamo fatto la conferenza stampa per aver arrestato quello che noi riteniamo essere stato il killer dell'Avvocato Pagliuso. Cioè le parti non si toccano, il processo non si toccano, magistrati, forza dell'ordine, avvocati, giornalisti, tutti quelli che stanno attorno al processo. che sono già di per sé sovraesposti per la delicatezza e l'importanza del lavoro e del ruolo che hanno attorno al processo nessuno può pensare, nemmeno nel subconscio, di preparare attentati o di organizzare attentati contro queste parti che stanno attorno al processo. E quindi questa notte era urgente intervenire. Una giornalista ha stimolato anche, ha ricordato che i carabinieri hanno abbattuto un drone perché queste organizzazioni criminali ormai sono, più organizzazioni criminali hanno diversi droni che li utilizzano per controllare le forze dell'ordine, per controllare a loro volti il territorio. Quindi è un'organizzazione criminale abbastanza agguerrite, abbastanza pericolosa e proprio per questo bisogna essere sempre pronti, attenti a rispondere punto su punto perché noi vogliamo riappropararci del territorio della provincia di Vibovarenza che riteniamo una delle province più alte di vista mafiosa d'Italia e proprio per questo ho pensato di mettere tre sostituti procuratori di D.A. per la provincia di Giaclava prima c'era uno e mettere soprattutto la grande attenzione che ha il mio aggiunto Bombardieri. Inoltre nella provincia di Vibovarenza ci sono forse l'ordine di primissimo piano, di grande qualità come lo hanno dimostrato oggi per l'ennesima volta i carabinieri del comando provinciale di Vibovarenza. Procuratore, possiamo affermare che questo è un ricco antipasto di una serie di attività che la procura farà nei prossimi mesi? Guardi, questo non lo posso dire. Io le dico che noi siamo impegnati come procuratori del settore di Catanzaro su tutte e quattro le province con lo stesso impegno. Anche le altre province le abbiamo potenziate, anche nelle province di Vibovarenza abbiamo messo adesso tre sostituti a di Crotone, scusi, mentre prima ne avevamo uno. Spero prima dell'estate o subito dell'estate di inserire altri due sostituti alla DDA, cioè da sei passeremo a 12 sostituti di DDA. Quindi è ovvio che noi cerchiamo di dare più risposte possibili, non solo per trasmettere sicurezza e fiducia alla collettività, così la collettività si avvicinerà a noi, ma anche perché il nostro lavoro, il nostro mestiere è quello di contrastare dall'andrangheta al balcone abusivo.